Mentre il Friuli Venezia Giulia si conferma in giallo, grazie ai dati ancora in miglioramento, sul fronte dei contagi anche il resto d'Italia, pur con un RT che passa da 0,85 a 0,89, vede ridursi le aree critiche come emerso oggi dai dati settimanali dell'ISS. Nessuna regione sarà più rossa, i cambi di fascia partiranno da lunedì prossimo, le decisioni definitive arriveranno in giornata con le ordinanze del ministro della salute Speranza. A chiedere comunque una nuova revisione sulle fasce e i parametri, il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, il quale ha segnalato che sta lavorando a un tavolo tecnico ad hoc assieme all'Istituto Superiore di Sanità e ai rappresentanti delle regioni. Sul fronte vaccinazioni invece il presidente ha richiamato al massimo impegno di tutti affinché aumentino le adesioni e si sta verificando la possibilità che a una persona vaccinata con la prima dose possa essere somministrata la seconda in vacanza. Da lunedì 10 maggio nel frattempo si apriranno anche in Friuli Venezia Giulia le agende per le prenotazioni dei cittadini compresi nella fascia d'età 50-59 anni. Potranno essere effettuate attraverso il call center regionale allo 0434 223522, agli sportelli CUP, alle farmacie abilitate e con la web app. Il vice governatore Riccardi informa inoltre che a seguito del parere del comitato tecnico scientifico l'intervallo tra la prima e la seconda dose dei vaccini mRNA sarà esteso a 42 giorni rispetto agli attuali 21 per Pfizer-BioNTech e a 28 per Moderna.